L'idea di aprire un corso di laurea in medicina a Ravenna è tornata ad attualità alla festa dell'unità di Borgossisa, dove il sindaco Michele De Pascale si è confrontato con i primi cittadini di Forlì, Cesena e Rimini. Sul tema non sono mancate le polemiche. Se De Pascale infatti ha sottolineato la carenza di medici e la necessità di formarne di più, coinvolgendo la Romagna e non solo Bologna, il sindaco di Rimini Andrea Agnassi ha fatto capire che anche la sua città potrebbe essere la giusta candidata per ospitare il corso, ma medicina è ambita anche dal sindaco di Forlì Gianluca Zattini, che però ha mostrato di avere già un accordo con Ravenna per spartirsi le elezioni. De Pascale in ogni caso ha fatto sapere che tutti e quattro gli ospedali romagnoli, a prescindere dalla sede del corso, andranno coinvolti per quanto riguarda tirocini e prestazioni dei docenti. La partita dunque resta aperta.